va bene è una cosa che come detto all'inizio per me diciamo è una sfida personale perché ho sempre interpretato offensivamente nel 352 nel 343 nel 442 l'esterno e sono abituato a giocare in fascia però da tersino mi richiede un po più la fase difensiva e stare attento nella marcatura nell'uno contro uno quindi l'ho presa come una come detto una sfida personale per crescere per mettermi a disposizione della squadra del progetto della società e spero di continuare a poter aiutare la squadra a crescere a imparare e di togliere le soddisfazioni giocando così va bene credo che hanno lavorato molto bene con me ringrazio ai preparatori ai fisioterapisti che mi hanno dato una grossa mano per farmi per tornare bene perché io ho perso praticamente tutto il ritiro ho perso gli amichevoli e quindi sono contento di poter tornare e di mettermi subito a disposizione mi sono trovato molto bene qua sia come città poi come società come squadra come gruppo la mia famiglia sta bene anche che per me è una cosa importante continuiamo la nostra nostro percorso grazie